ciao ragazzi e bentornati sul mio canale io sono il lanciere ed oggi ritorniamo con un nuovo video dedicato alla raccolta calciatori adrenalin 2023 2024 abbiamo esattamente metà box da andarci ad aprire insieme in questo video ci apriremo ben 12 pacchetti quelli che restano di questo box del bundle da 33,90€ che mi è arrivato qualche giorno fa ma prima di partire con lo spacchettamento io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto attivare la campanella e soprattutto lasciate un bel like a questo video detto questo ragazzi direi di andarci ad aprire il box così lo mettiamo da parte recuperiamo i 12 pacchetti e iniziamo subito andando a sbostare card panini eccoci qua i nostri bel 12 pacchetti andiamo subito a bomba così che il video non dura un'eternità e e partiamo subito con le prime carte base sono tiao ciurria tre soldi locatelli poi abbiamo un codice e due carte girate e sono volpato e lazovic una energy e una master class andiamo avanti secondo pacchetto siamo alla ricerca di qualcosa di importante ragazzi per adesso poco e nulla carta codice uno scudetto è quello della lazio poi abbiamo cacace bites e racmani per il napoli continuiamo a spacchettare pacchetto numero 3 leao in copertina abbiamo il capitano del napoli di lorenzo pellegrini capitano della roma ruggeri diamante dell'atalanta poi abbiamo la energy con la sinac ancora per l'atalanta leao e gagliardini altre due carte base pacchetto numero 4 vediamo che cosa troviamo partiamo con bron della selenitana laureante giuric rodrigo becao attaccante la stella dell'udinese de lofeo poi abbiamo il codice e bleve marco bleve portiere del lecce pacchetto numero 5 andiamo con gli aiello per il genoa caldirola carta girata e la master class di zapata qui ancora l'atalanta con codice lo scudetto del genoa di francesco e helsi hisai per la lazio ancora ancora pacchetti pacchetto numero 6 con questo arriviamo a metà abbiamo voce voda per il torino tauvin udinese poi abbiamo un codice eccolo qui centrocampista energy e l'optus check per il milan poi abbiamo culibali moise kenne philip stanco di mamma quanti me ne sono usciti mamma mia almeno 45 philip stancovi c'è la carta più prodotta da panino e la carta semplicemente che trovo di più io bakker per l'atalanta shoten lockman mancini carta difensore e la stella di racmani anche questa è doppia carta codice e a terminare obert per il cagliari ultimi pochi troppo pochi pacchetti troppo pochi ragazzi ancora nulla io vedo gente che esce di tutto in questi pacchetti niente niente vignato per il monza carta codice poi abbiamo la energy di sabiri per la fiorentina ceccherini e mattia bani per il geno meno 4 per trovare un top player almeno un top player almeno golda niga grassi carta attaccante e l'imparabile laurent e pinamonti berardi ne ho una ed è anche doppia codice carta inutile lo scudetto dell'inter bene mi manca abida ui e milenkovici nicola milenkovici della fiorentina pacchettino numero 10 andiamo con jovic kujabi bonucci è una volta o multi ruolo multi ruolo multi ruolo la mettiamo dietro per illy per il verona e abbiamo trovato non ci credo non ci credo di nuovo team scudetto di nuovo il team scudetto ancora il team scudetto per la terza volta è andata veramente male mannaggia mannaggia allora continuiamo con buonaventura gonge attaccante baldanzi fantastella poi abbiamo portiere di gregorio per il monza baluchieviz e lumbu per il cagliari ultimo pacchettino numero 12 e abbiamo martinez coppola codice scudetto del bologna abbiamo osimen per la seconda volta dominguez e scalvini ragazzi termina qui questo video è terminato anche il mio box da 24 l'unica carta più interessante è questa eccola qua multi ruolo è il team scudetto è la mia terza carta team scudetto quindi è una tripla non è andata benissimo come come potevamo sperare quindi siamo ancora molto indietro con questa raccolta e niente speriamo di riuscire a trovare qualcosa di più interessante nei prossimi video staremo a vedere intanto ragazzi prima di passare i saluti vi ricordo come sempre iscrizione al canale di attivare la campanella e lasciare un bel like a questo video detto questo con calciatori adrelin in 2023 2024 dal lanciere è tutto ci vediamo al prossimo video ciao ciao